Oltre 50 imprenditori al B2B Sinergie Sostenibili organizzato presso il Centro Direzionale di Confartigianato di Ancona-Pesaro-Urbino. L'appuntamento è stato il quarto degli eventi del progetto Obiettivo Sostenibilità, partito lo scorso marzo grazie a un'importante collaborazione tra Università Politecnica delle Marche, istituzioni e amministrazioni del territorio. Il progetto è stato di gran contributo alle imprese per una riflessione sulla sostenibilità, in cui sono stati coinvolti il mondo della ricerca, delle istituzioni e delle imprese. Gli imprenditori che hanno aderito a questo progetto hanno intrapreso azioni e scelte sostenibili per confrontarsi con mercati sempre più competitivi ed esigenti. Il B2B ha consentito alle imprese e partecipanti di avere incontri personalizzati con 15 realtà del territorio. Tutto l'intero percorso è stato un'opportunità per le imprese per scambiare conoscenze, visionare i prodotti e servizi utili a migliorare i percorsi di sostenibilità. Durante i quattro incontri si sono create relazioni tra i soggetti interessati alla sostenibilità, permettendo la crescita di progetti finalizzati e aiuto all'impresa del territorio. Sono 15 postazioni di lavoro di altre tante aziende che si sono prestate, messe a disposizione per dare chiarimenti, per rispondere a quelli che possono essere gli interessi delle imprese che vogliono partecipare. Si va dalla mobilità elettrica, la welfare aziendale, la vendita, la fornitura di energia e di gas per quanto riguarda il nostro consorzio Cempi, tutta una serie di argomenti, comunità energetiche, aziende che producono, che fanno efficientamento energetico, impianti fotovoltaici. Quindi tutto quello che può servire, interessare a un'azienda per poter competere al meglio in quella che è ormai una sfida mondiale, anche dal punto di vista della sostenibilità, che ormai è un tema fondamentale per ogni tipologia di impresa. La sostenibilità, noi diciamo, dal punto di vista aziendale è tutto quello che serve per poter veramente competere nel futuro. È molto importante che cerchiamo di rimarcare il fatto che anche le piccole imprese sono molto sensibili da questo punto di vista e in particolare forse per le piccole imprese è un tema veramente fondamentale. Quindi questa è una sensibilità che hanno gli imprenditori, ma soprattutto la cosa che ci ha fatto più onore, possiamo dire così, è stata l'attenzione e la sostenibilità sociale. È stato il nostro primo incontro e veramente lì c'è molto interesse sia per migliorare l'ambiente di lavoro, ma per rendere anche, come dire, più soddisfatti i nostri collaboratori.